Civil Week 2024, Parco delle Cave, gli orti di Cascina Barocco. Siamo qui perché qui ci sono delle giovani braccia rubate dall'agricoltura che fanno invece qualcosa per il nostro territorio. Che cosa state facendo e con chi ho il piacere di parlare? Io mi chiamo Caroline e stiamo piantando i pomodori. I pomodori, pomodori che tu mangi tutti i giorni, giusto? No. Ecco appunto, immaginavo che sarebbe questa questa. Non mangi mai la verdura? No. Però te la fanno coltivare qua, com'è che è questa storia? Eh, la coltivo però non la mangio. Ok. Però te ne prendi cura? Sì. Cioè sei contento quando la piantina la vedi crescere? Sì. È soddisfazione, no? Sì. Com'è? È faticoso, com'è che è? Non è neanche troppo faticoso, però non è anche troppo facile. Qual è la cosa più difficile che ti trovi a dover fare? Il fatto che è un po' troppo bassa la terra forse. No. Non so qual è sia la terra. I tempi, i tempi, sono lunghi i tempi, vero? L'attesa e tutto. Com'è fare l'agricoltore qua in Cascina Barocco? Allora, da un lato bello, da un lato anche un po' difficile perché piantiamo le piante ma è anche un po' perché poi, cioè, noi piantiamo le piante e poi aspettiamo tanto per farle crescere. Eh, ma tu i pomodori poi li mangi? Sì. Ah, ok, tu sì, bravo. Io mangio. Mangi anche i suoi? Sì. Ah, ecco, bene. Quali sono? Suoli i pomodori piantati o avete anche piantato altre piante nella vostra carriera ormai pluriennale da ricoltore diretto? Prima abbiamo piantato degli alici. Gli alici? Gli alici credo che non si piangono. I lici. I lici, ah, ok, i lici, sì, ok. E abbiamo messo dell'erba. Suggeriscono salici o lici? Salici. Salici, suggeriscono salici. Ma anche lici si potevano fare. I salici per, e abbiamo scavato e poi abbiamo messo l'erba un po' secca per ammorbidire. Ah, per ammorbidire. Quindi insomma c'è tutta una tecnica anche da dover seguire, no? Che voi non conoscevate però. Come avete fatto a imparare queste cose? Eh, l'abbiamo sentito. No, ce l'hanno detto. Ah, ecco. E quindi com'è soddisfacente fare questa cosa? Sì. Beh, non ti ero tanto convinta. Vi facciamola. E ti piace fare questa attività? È soddisfacente? Sì. Brava, ecco, adesso era più convinta, era più convinta. Tu mi vuoi dire qualcosa di importante, lo sento. Poi abbiamo piantato anche delle melanzane. Ah, quelle le mangi? No. No. Le melanzane le mangi? No. Ma tu c'è qualcosa che coltivi qua che mangi oppure? No. Eh? Niente, non mangi niente di quello coltivato qua. No. Però continua a coltivare. Sì. Se non è al turismo questo, ditemi voi. Cioè, bravo, bravissimo. A lui proprio non gli piace né la frutta e né la verdura. Nella verdura? È vero. Guarda, piacere anch'io. C'è me in due, perfetto. Ma invece è importantissimo mangiare la verdura, mangiare la frutta e vi dico di più, anche coltivarla è importante. Allora adesso ci spostiamo per capire chi è che vi sfrutta per il lavoro. No, andiamo a parlare invece con chi ha avuto questa bella idea di far conoscere. Insomma, non è solo coltivare, ma è conoscere anche un territorio, perché non è un caso che siamo qui agli orti di Cascina Barocco, no? Insomma, sì, è bello coltivare la terra, ma qui ha un significato ancora più ampio, diciamo, giusto? No, no, venite più qua, venite più qua, anzi, venite più vicino a me, più vicino a me, perfetto. Abbiamo la fortuna di essere in un contesto così bello, che è il Parco delle Cave collegato al Bosco in Città, al Parco di Trenno, quindi insomma, verde a gogò. E io ho il piacere quindi di essere qui con? Silvana dell'Associazione Axis. Paola dell'Associazione Axis. Cristina dell'Associazione Axis. Ok, io a Fabio non faccio parte dell'Associazione Axis, ma mi piacerebbe perché è molto bello, devo dire. E dicevamo, è troppo bassa questa terra, dobbiamo trovare il modo di fare più alta. Allora, l'anno scorso, durante la Civil Week, abbiamo costruito l'orto inclusivo. Ah, vedi, che è l'orto a scaletta, per quelli come me che hanno mal di schiena, perfetto. Sono un po' più comodi, ma noi stiamo anche accucciati su questi bordi, quindi si sta comodi lo stesso. Ma invece questi baldi giovani e ragazze, cosa gli fate fare e qual è, insomma, non è solo il coltivare, il mettere il pomodoro, è molto di più, immagino. Certamente, perché è conoscere e apprezzare il vivere in mezzo al verde e darsi da fare per... Custodirlo. Esatto. Preservarlo, conoscerlo ovviamente e anche capire da dove arriva quello che mangiano. Oltretutto sono ragazzi, immagino ragazzi e ragazze che abitano qui in zona e che magari non avrebbero mai pensato di vedere appunto un pomodoro nascere sotto, al di là della propria strada, giusto? Sì, sicuramente, ma non è solo coltivazione di ortaggi, è anche gioco, movimento, fatica, sudore, perché comunque si muovono tanto in un contesto particolare, ecco, diciamo così. E anche solo lo sguardo sulle erbe aromatiche, saper riconoscere una salvia da un rosmarino, da un timo, è difficile per loro. Maggio, lavoro importante, soprattutto quando poi pensano di coltivare un'alice, quindi non so se mi avete sentito. Quindi, spieghiamola questa, bravo. Allora, il titolo di questa giornata è Seminiamo Acqua. E abbiamo preso delle talee di salice e le abbiamo messe a dimora. E ho fatto tutta la spiegazione del salice, perché è una pianta, diciamo, che cresce vicino ai corsi d'acqua, eccetera. E abbiamo anche, quella parola che non riuscivano a dire, è paciamato. Ah, paciamatua. Nel senso che le abbiamo coperte anche con dell'erba da sfalcio. Come adesso stiamo facendo? Come state facendo qui anche voi, con le zucchine? Con le zucchine e con la paglia. Ma poi questa verdura, appunto... Ah, scusa, scusa. Prima è andata via, però con noi, sempre di Axis, c'era una persona che ha fatto gioco yoga. Quindi noi in parallelo facevamo attività di giardinaggio e gioco yoga e poi i gruppi si scambiavano. Quindi cerchiamo sempre anche di godere in modo differente degli spazi, dei prati, eccetera, proprio anche con così delle attività un pochino di gioco, ma anche un po' introspettivo, comunque di apprezzamento degli uccellini e di quello che c'è. Sì, sì, non posso stare troppo in silenzio perché sennò quelli della radio mi dicono che devo sempre parlare. Però se stessimo un attimino in silenzio qui si sente veramente la natura a 40 metri dalle case. Quindi davvero, veramente nel cuore della città operosa, come si dice così, di Milano. Un'oasi veramente di natura e di salvezza, mi avrebbe da dire, non solo per il nostro corpo ma anche per l'anima. Ma queste verdure poi che viaggio faranno dopo una volta cresciute? Ce le mangiamo quando e come? Allora, tendenzialmente noi invitiamo, anche adesso avremo i centri estivi che verranno qui per due giornate alla settimana, per tutto il periodo estivo e quindi quello che sarà pronto, come succede esattamente negli orti scolastici che coltiviamo durante l'inverno, ogni classe e ogni gruppo dell'orto estivo raccoglie quello che è pronto in quel momento e quindi si condivide. Chiaramente qualcosa lo prendiamo anche noi, però insomma diciamo che si condivide. Quello l'ha detto che i pomodori non li vuole, quindi avete dei pomodori in più per quest'anno. E abbiamo già dei pomodori in più. E abbiamo mangiati tutti. Ah, dice, dice, ma poi alla fine li mangia. Quindi abbiamo fatto una merenda con pomodori e carote e le hanno spazzate tutte. Ecco, e meno male, meno male, meno male. E allora grazie mille veramente all'associazione AXS, complimenti per quello che fate qui agli orti di Cascina Barocco, qui al Parco delle Cave, Municipio 7, zona ovest di Milano. Se non sapete dove siamo, vi perdoniamo poco, ma vi perdoniamo, ma cercate di trovarci perché... Faccio una cosa al volo che noi riusciamo a portare avanti questo progetto facendo anche degli interventi piuttosto grossi come questi del legname, eccetera, grazie a uno sponsor, che è EICOM, che produce Energia Verde finanziando questo progetto. Quindi è una cosa molto bella, è un circolo. E infatti, quando c'è qualcuno che fa una cosa di bello, ricordiamo e diciamolo allora. Quindi un grazie anche al nostro sponsor, grazie appunto a coloro che rendono possibile tutto questo giornalmente, grazie ancora alla associazione AXS. Questa è la Civil Week 2024, che no, non finisce qui, anzi continua. Civil Week 2024.